Con tutti questi bianchi divento nervoso. No. No. No, 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 no. È terribile sprecare una mente. How did you find me? Don't you think these people deserve the truth? I don't know what to do. Devo trovare il vero cecchino, così potrò capire come hanno fatto. Dove è tutta? Lo sai, tesoro, è in missione. L'ho pianificato nei tentari. È ora di farla finita. L'ho pianificato nei tentari. L'ho pianificato nel pal初ale. Grazie a tutti.